Fede? Dove sei? Da dove mi stai chiamando? Sono dentro il furgone, vieni! Ok, cosa mi devi far vedere stavolta? Ho un pacco per te! Cosa? Si chiama Mazza da Golf! E feli pure perché fai schifo! Eh ragazzi, come va? Io sono Fereniki! E io sono Stefano, che si chiama GTA 5! E siamo qui con un nuovo episodio del si può fare per l'occasione! Abbiamo comprato anche il nostro camion personale che abbiamo già prontamente spaccato per riuscire a fare tante belle cose! Esattamente, ce lo siamo davvero comprati, io non so perché si può comprare questo camion! Non so cosa possa servire, però in questo caso è utile, quindi non ci si lamenta! Esattamente, io sono totalmente senza voce, quindi scusate se avrò un tono davvero terribile, non so bene perché ho perso completamente la voce! Non so bene sempre, non ce ne accorge nessuno! Quindi Stefano sta per niente bene, mi sono sparato miele e tutte le cose possibili per riuscire a registrare, quindi spero che andrà comunque bene la voce! Allora, oggi proveremo una cosa davvero epica! Praticamente vogliamo entrare in prigione, infatti mi sono vestito per l'occasione, con Feriniki che attiverà quella cosa che per tre minuti non può avere stelle di pulizia! Mentre io non la attiverò, uscirò in prigione, sparerò un po' di gente, rientrerò nel furgone e andrò via insieme a Feriniki e vedremo se così potrò scappare dalla pulizia! È un tentativo davvero estremo, ma potrebbe funzionare! Sì, sì, è molto particolare, molto difficile! La incituleremo, fugarla alla prigione con un camion carino, ti piace? Non è molto carino sto camion, fa schifo, è lentissimo ed è difficilissimo pure da aprire! L'abbiamo pure tutto distrutto! Esatto, non è molto utile! Allora, iniziamo, direi di farlo proprio di notte, capito? No, 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 perché di notte magari non vedono ed è più semplice, quindi lo faremo in pieno giorno per dimostrare nel caso che è una cosa super mega efficace e partiamo da altro! Una cosa che i consolini, non mi puoi buttare giù, ci hanno chiesto è se si può entrare con una moto dentro questo camion! Quindi adesso inizia ad andare in autostrada e cercaci una bella moto! Io? Sì! Ferin, il mio amico meccanico mi ha portato la moto! Allora torna indietro, aspetta! Possiamo subito provare la prima cosa di oggi! Sono curiosissimo! Vado? Vai! Mi schianto malissimo, lo so già! Ok! No, devi impennare prima! Davvero? Non riesco a impennare con sta... Uh! Però fa, eh! Ci vorrebbe la mia qui, perché la mia navigata impenna davvero bene! Allora, aspetta, proviamo in un modo ancora più bello! Prendi il camion e vieni in retromarcia! Ho un'idea un po' folle! Non farlo esplodere, ti prego! No, 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 non lo faccio esplodere, sei pazza! Perché poi è un disastro... Ci abbiamo messo 40 minuti ad aprirlo! Esatto, poi è un disastro riaprire di nuovo gli sportelli! Esattamente! No, no, è un'idea carina che ti piacerà! Ok, continua a venire in retromarcia! Ah, usi, usi, capito, le montagne a te come rampo! Esatto! Teoricamente così già posso fare! Sei pronta? Vai! Allora, eh... Ui! Dai! Dai, fa! Sto rosicando tantissimo! Che fare fa! Che fare fa! Per fare fa! Non so cosa voglio... È colpa della gola, eh! Anche se parlo nel modo sbagliato è tutto colpa della gola oggi! No, quello è il tuo cervello, però va bene! Lo so! Facciamo finta che sia la gola! Vai, 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 vai! Sono collegati nel mio corpo, gola e mente sono l'unica cosa! Concentrati! Fai la persona seria per una volta! Ui! Ui! Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta! Ciao, Fer! Bellissimo questo, bellissimo! Ciao! Oh, avevo qualche dubbio, eh! Un po' di tubante lo sono stata, però... Anche io! Bello, bello! Allora, c'è un problema! Il secondo che ci hanno chiesto col camion aperto è più complicato di questo! Ok, qual è? Ci hanno chiesto di rapire un civile! Quindi, praticamente, ci hanno chiesto di andare, andando in retromarcia, investire un civile e cercare di farlo entrare dentro il camion e poi andarcene! È un po' complicato! Sì! Allora, non so se ci riusciremo, eh! Iniziamo ad andare in città col camion, poi vediamo! Ok, ok! Io mentre sto dentro il camion in moto perché è troppo ganza come cosa, quindi ci resto così, mi piace tantissimo! Ferre, mi sta venendo un po' di naudia qui dentro! Ascolta, ma cosa vuoi che sei lì dentro con la moto? Potresti sbandare un po' di meno, per favore? No, purtroppo è davvero terribile! È peggio di una nave questo camion! Sì, sì, sì! Poi guarda come è ridotto! Guarda lo sportello tutto storto! E vabbè, l'ho presa a colpi con un carro armato! Esatto! Mi sembra anche normale! Andiamo da qui e poi ci ritroviamo in città! Stiamo per rapire qualche pedone! Sì, sì! Poverino! Scusi, signore! Ha vinto un contest incredibile per essere rapito con un camion! Venga con noi! Va bene, grazie di vederci! Non le interessa, ho capito! Prendi il palo, però stai attento! Tranquillo! Scusate! Ne hai già fatto fuori uno, due, tre! No, 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 così schiaccia e basta! Non funziona come piano! Allora, ci serve un piano migliore! Vediamo se posso rapire a te! Ok, non rimaniamo sui civili che secondo me è letteralmente impossibile! Ho un piano in mente tutto pazzo! Oggi sono in forma, te lo dico! Sto pensando a cose bellissime! Meno male, meno male! Allora, praticamente... Ti vuole più chiare? No! No, no! Scendi dalla macchina, salici sopra, Nella parte bassa! Oh, eh vabbè, è difficile! Lì! Eh, ok! Ok! Adesso io cerco di colpirti! E vediamo se ti fa entrare dentro! Sì, ma questo con un civile non lo potresti mettere! Infatti no, sì, con un civile... Eh, credo che sia totalmente impossibile! No, non mi hai preso neanche... Devi andare più frontale, secondo me! Aspetta! Capito? Proprio frontale alla macchina! Così! Più o meno! No, niente! Eh, eh! Ti vedevo quasi dentro, eh! Sembra un po' impossibile perché è troppo alto il furgone! Quindi nel caso il civile andrebbe praticamente fatto salire sulla moto in qualche modo! E poi con la moto sali sul camion e allora così lo rapisci! Però mamma mia, è troppo complicato! Lasciamo perdere! Asciugare gli abiti col fuoco, molto carino! Allora, andiamo velocemente in spiaggia perché quando diventa giorno poi il fuoco non c'è più! E praticamente ce l'ho chiesto se appunto se ti bagni i vestiti, se poi vai vicino al fuoco, si asciugano o rimangono bagnati? Ok, ok! È interessante! È interessante! È interessante! In effetti non ci avevo mai pensato, quindi sì, carino da provare! Bene! Dimmi! Dato che non ci sono faloi e ci va sempre tutto male, hai il permesso di mettere fuoco tu! Quindi... Posso mettere fuoco alle bandiere? Vediamo se si può fare! Ok, doppio si può fare! Io ne metto e vado a farmi un bagnetto alle 5 del mattino! Ah no, ce l'ho la tanica! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ok, ok, io vado a farmi un bagnetto! Ualè! Ok, direi che sono bello zuppo, zuppo, zuppo! Infatti già si nota l'effetto del bagnato! Che succede? L'ho finita! Ma... Ne avevo pochissimo! Bene! Allora, sei davvero una delusione incredibile! Però io ho messo poco poco, vedi, di benzina qua! Magari se ci metto una molotov funziona! Ah, sì, vedi molotov! Se hai le molotov, certo che funziona! Allora, vediamo esattamente! Posso chiederti come mai hai delle molotov appresso? Non ti interessa! Allora, a questo punto io mi avvicino, ok, e vediamo se mi asciugo! Se non mi asciugo, voglio vedere anche se proprio prendendo fuoco mi asciugo, perché anche quella è la curiosità! Ma quello non lo noti, però non prende fuoco la bandiera, eh! Vedi, no! No, no, la bandiera non prende fuoco, quindi come si può fare la bandiera non prende fuoco! Che noia, però! E vediamo se Steph prende fuoco, no! Aspetta, te ne buttona nei piedi, stai fermo! A fianco, grazie! Vai! Nei piedi proprio... Aia! E vabbè, ti ha preso di... Aia! Ti sei asciugato! No, 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 neanche così mi sono asciugato! Quindi neanche il fuoco ti asciuga! Guarda! E riprende fuoco! Sì, 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 vedi che la maglietta è ancora tutta bognatica! Fede! No! Mi sono dato a fuoco pure io, ma come? Come? Non è divertente questo gioco! Ah, fatti vedere? Non brucio, basta, quindi smetti di tirarmele! Ok, non ci si può asciugare col fuoco! Tieni una granata a gas, dormi un po'! No, vado! Sì! Allora, ce ne sono tipo tre! Dove ne la tiro esattamente sopra? Sulla sprite, vai! Vai, vai, vado, 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 vado! Ho rimbalzato, aspetta! L'hai un po' mancato! Così, così, così ci siamo! No, è attaccatissimo! Insomma, insomma, Fede, mi deludi con questa... Aspetta, no, è esploso! Davvero? E lo vedi che quando non ha più la parte di davanti... Eh, ma è esploso solo il vetro, però, aspetta, aspetta! Togliti! Fede, attenta! Hanno rimbalzato, Fede! E rimbalzano! Te l'ho detto che è un casino! Allora, bisogna incastrarla in un angolo! Ok, guarda, io l'ho messa perfetta! Io l'ho messa perfetta! Grazie a sopra! No, 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 no! Si rompe il vetro, però non esplode del tutto! Esatto, rimangono tutti bruciacchiati, ma non si distrugge del tutto! Vediamo con la mazza da baseball! No, guarda, rimangono più o meno... Allora, adesso proviamo! A questo stato! Scusa un attimo! Sì, però, aspetta che mi sposto, grazie! Togliti! Voglio provare con le bombe adesive! Ok! Non so perché gliele appiccico qua! Ok! Adesso mi allontano e faccio esplodere tutto! Come si diverte quando c'è da fare esplodere! Vado! Uno! Uè! È così però ha funzionato! Questi due perlomeno si sono distrutti, eh! Sì! Questi sono distrutti! Brava, brava, brava! Bella idea! Non l'hai lasciato perdere! Aia, smettila e lasciami in pace! Vedi, questo è perché tu non sei esperto di bombe come me, quindi non ci avevi pensato! No, si è visto proprio... Hai avuto l'occhio di capire che un'adesiva abbia funzionato! L'edicola esplode? Se gli attacco le bombe... L'edicola... Dov'è l'edicola, scusami? Questa è un'edicola... Dov'è? Vieni dove sono io, dai! Arrivo! Ah, ma c'è l'edicolante, scusi! E vabbè, dai! Vabbè, adesso lo faccio esplodere! Scusi! Le metto due, visto che c'è anche lei! Vuole partecipare, non si può fare! Allora, ci sei? Sì, vai, vai, sto guardando da lontano! Io ho messo due nell'edicola... Ok! No, non esplode, non è morto neanche lui però! E non è morto! È uno scudo! Però aspetta, se glielo metto dentro... Ok! Proprio all'interno... Eh, ma vedi che c'è una specie di scudo? Ma scusi, ha un metro blindato lei! Ma... No, così è morto! Ah, è schiattato! Eh sì, perché glielo ho messo dentro! Ma secondo me però è schiattato di infarto, non è schiattato per la bomba! Eh, anche a me è sembrato che non li abbia fatto poi così tanto! Si è accasciato! Cioè, queste edicole, cioè, ma dimmi te... Aia! Eh, vabbè, ho calcolato male di stare! Non eri un'esperta! Fede, è saltato in aria il coso degli hot dog e sta bruciando tutto il parco! È meglio scappare in fretta! Chi l'ha fatto, tu? Io, sì! Ti ricordi il promolatubo bomba? Ha avuto delle conseguenze... Oh no! La polizia! E che noiosi che siete! Stiamo solo scherzando qui! Insomma, Fede, non è proprio uno scherzo questo! Cioè, ma ti sembra che fai esplodere una bomba e arrivano i poliziotti? Che noia! Sì, Fede! È giusto così! Cioè, chiudete un occhio! Tanto siete tutti corrotti! Ma cosa stai dicendo? Che sono tutti corrotti! Ma sei impazzita? No, è così! Guarda, fammi... Guarda, aspetta! Io ti dimostro che sono corrotti, ok? Ok, va bene! Guarda, io chiamo il mio amico Lester! Sì! Guarda! Guarda, adesso... Aspetta un attimino che mi risponda, quindi non avere un attimo... Cioè, troppa fretta! No, no, io... Guarda, ho tutta la calma del mondo, sì! Ecco fatto! Io chiamo i miei contatti e loro non ti seguono più, quindi sono corrotti! Ma... Perché ti spiego, Lester è un avvocato che gli fa capire che non siamo noi stati ad aver tirato la bomba! Siamo stati noi ad aver... È stato un signore che è passato di lì che... No, Lester gli dà le mazzette e loro fanno... No, 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 assolutamente non è vero! Allora, Lester è sparato in testa? Dimmelo, dimmelo, perché se non lo aspetti di contraddirmi... Stai mirando la zona sbagliata, ciao, Ferre! Perché non ti vedo, è troppo grande! Mi stai deludendo! Aspetta, no, così... Ferre... Per una bomba adesiva, la vuoi? Non funziona, non rende la stessa modo del mito! Dai, muovi! Sei pronta, Ferre? Prontissima! Allora! È nata pronta, è nata pronta! Sali nel camion, chiama Lester, attiva la cosa per non avere la pulizia per tre minuti! Ho un'ansia incredibile perché questo è super importante! Forse si può fare più importante che abbiamo fatto, guarda! E ho paura di sbagliare, quindi sono molto, molto in ansia! Io sono pronta ad entrare nel ghetto! Allora... Ma te dovremmo fare il contrario, però vabbè, sono vestito io da prigione, quindi entro io! Mi spiace, questa volta parlerò io con i tuoi colleghi! Comunque li saluto da parte tua, ok? C'è qualcosa che li devo dire in particolare? No, no, ci sentiamo tutti i giorni! Ok, ok, bene! Non è proprio... 5.000 costa, però accidenti! Non ti lamentare! No, mi ricordo! Vai, dritta! Ok, partito il tempo! 2 minuti e 56 abbiamo... Lo so, è pochissimo tempo! È pochissimo tempo, Ferre! Almeno 5 minuti per 5.000 li avrei voluti, è tempo la verità! Chiedi troppo! Ok, salve! Scusate, io ho un pass partù che mi permette di entrare dove voglio, grazie! Prima di tutto, la prima cosa interessante è ricevo le stelle di pulizia, sì! Le ho ricevute e mi hanno anche già quasi ammazzato! Ma davvero? Continua ad andare, continua a camminare, Ferre! Continua a... Mi sono incastrata! Camminare, Ferre! Vado, vado, vado! Eh, ascolta, non ci passo! Ok, eccomi, eccomi, eccomi! Siamo dentro la prigione, sì? Sì, siamo proprio dentro! Io adesso sto andando dove ci sono i detenuti perché sei come ormai che ci sono lì, saluto! Eh, certo, certo, certo! No, non lo posso sfondare! 1 minuto e 20! Oh mio Dio! Ferre, io ti ammazzo! Oh mio Dio! Ferre! Aspetta, no, ce la faccio, stai zitto, stai zitto! Ho ancora un minuto, un minuto, ci sono! Non ce la faremo mai a fare di nuovo tutto il giro! Zitto, zitto, zitto! Infatti usciamo da qui, guarda! E si apre? Sì che si apre! Sicura? Sì, sì, sì! Si è aperto? Sì, si è aperto! Ok, veloce, 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 veloce! Adesso devo trovare l'uscita da questa parte però, però almeno siamo qua e ce la possiamo fare! Ok! Ce la possiamo fare! Non so se gli effetti qua ti darà le stelle di polizia nel caso! Aiuto, mamma! Ferre, siamo arrivati, vero? 10 secondi! Esci, 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 esci! Oddio, oddio! No, ma non posso uscire da qui! Sì che puoi! Come faccio? Vai! No, lo vedi! Non si apre? No, non si apre! Non posso uscire... Cioè, ma era una trappola questa! Era una trappola! Era una trappola terribile! È la polizia? Sì, sto chiamando di nuovo all'estero un attimo, se mi fa un favorino! Non credo che funzionerà stavolta, Ferre! Però lasciatemi, Pa! Mi ha incastrato! Ferre, mi stai imprigionando! Non funziona, non funziona! Eh, lo so che non funziona! È ovvio che non funziona, ti hanno ucciso! Ci ho provato! Che ti devo dire? Che ti devo... Mi hanno ucciso! Ferre! Dimmi! Mi hai lasciato circondato da 15 macchine della polizia e 3 elicotteri! Mi spieghi cosa devo fare io adesso? Scusa, tu mi hai detto... Mi hai detto... Off... Off registrazione! Mi hai fatto sì che c'è l'uscita lì! Continuo, invece era chiuso! Allora... Cioè, mi hai fregato! Bastava entrare e riuscire nello stesso posto! Io non so perché tu... No, perché non hai visto quando ho fatto il giro! Io sono arrivata a un punto chiuso, quindi dovevo rifare tutto il giro al contrario, capito? Io pensavo fosse circolare, che poi girando alla fine ritrovi l'ingresso! Invece no, era chiuso! Esattamente come era chiusa quella strada! È molto strana la prigione, è molto strana! Bah! Sono aperte a cara! Come sappi che stanno iniziendo a spararmi! E sono morto! Ci siamo invertiti i ruoli! Ferri Niki è dietro che spara polizia, ammazza polizia! No, perché sapete cos'è successo? Io avevo ancora i tre minuti con cui i polizietti dovevano chiudere un occhio! Mi hanno preso il camion, proprio mi hanno tamponato! E mi sono arrivata alle stelline di polizia e mi hanno ucciso! Sai perché? Perché non so perché! Sei un criminale talmente grande che con te non funziona la cosa per chiudere un occhio! Non mi è mai capitato che con i polizietti, appunto, chiudono un occhio che toccandoli mi desse le stelline! Allora! Io non ho capito perché! Siccome dobbiamo riuscire a fare questa fuga dalla prigione, adesso ti devi concentrare! Devi fare Q! Aspetta! Devi smettere di sparare e devi fare Q! Esatto! In modo tale da essere nascosta lì dietro! Esattamente! Infatti mi stanno già lampeggiando le stelline! Ok! Te lo dico! Te lo dico! Io ovviamente non ho le stelline quindi mi devi dire tu quando sei appunto scappata! Aiuto, 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 aiuto! No, 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 stai attenta eh! Allora è successo che ho fatto Q nello sportello! E come hai sbandato? Ok! Che mosso così mi stava per buttare di sotto! Ma sbaglio non ci sta seguendo nessun tipo di polizia? Allora, per un attimo mi hanno riseguito ma adesso mi stanno di nuovo lampeggiando le stelline! Ok! Io mi limito a correre dritto perché voglio proprio vedere se funziona! Allora ti hanno rivisto? No! Uh! Sì, invece, adesso sì! Ma perché mi vedono? Perché ti erano passati a fianco! Perché teoricamente dovresti avere entrambi gli sportelli chiusi! Ma il gioco è baggatissimo ormai e non c'è modo di avere entrambi gli sportelli del furgone chiusi perché appunto non si aprono più bene, è tutto un cadrino terribile! Però è tutto un mix! Quando mi passano vicino mi rivedono? Però poi, capito, non mi rivedono più, esatto, e rilampeggiano di nuovo le stelline! Vabbè, vediamo se riusciamo a seminarli! Io sto solo correndo dritto, quindi non sto facendo nulla di particolare! Adesso non mi stanno vedendo! Ora ti vedono! 3, 2, 1! Ti ha visto? Aspetta! No, 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 no! Ok! Ti è passato proprio sopra la testa e non ti ha visto! Probabilmente l'elicottero non mi vede! Magari la macchina sì perché ce l'ho spartella aperta! Esatto! Esatto! Ok, ok! Allora teoricamente manca poco gli semini, eh! Perché ormai si è già almeno 30 secondi con le stelline che lampeggiano! Io sto solo andando dritto perché così non sto neanche cercando appunto di seminarli alla vecchia maniera! Ok, ok, bravo, bravo, bravo! Fatto? Andato! Andato! Cioè ma vi sembra che potete seminare la polizia uscendo da una prigione e stando dentro un camion! È ridicola sta cosa! Adesso i consolini sapranno come liberare i consolini finiti in carcere! Esatto! Quando qualcuno dei vostri amici finisce in carcere voi andate col furgone, seminate la polizia ed è tutto a posto! Vi sconsiglio di provarlo però vedete voi! Direi che ci possiamo fermare così col tramonto perché è appena finita una giornata davvero stancante di si può fare super intensi e super belli! Quindi prossima volta ne abbiamo davvero fantastici e me li sono lasciati per il prossimo episodio perché ce n'erano alcuni super mega epici e questo episodio volevo dedicarlo proprio a questa fuga! Alla fuga dalla prigione! Perché doveva essere proprio il protagonista dell'episodio ma nel prossimo ne abbiamo alcuni davvero epici! Te ne spoilerò solo uno! Il carro armato sopra la metro! E vabbè! E vabbè! Non andiamo oltre perché è davvero sarà un episodio super epico! Quindi ci fermiamo così! Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciateci i likes, commentate proponendoci altri si può fare da fare! Votate il sondaggio o qualunque cosa ci sarà nel sondaggio e ci fermiamo così! Bene che se vi è scusi, se ci lasciateci un like! E questa è la prima volta che ho detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!